Buongiorno a tutti, mi nomi è Tizimati Buongiorno a tutti, mi nomi è Tizimati e benvenuti in questo nuovo video in cui vi dico e vi racconto che il 28 luglio alle 3 del pomeriggio in piazza Garibaldi a Padova faremo un raduno con i seguenti youtuber con Maranghino, che è anche Marangafox, Capraic AlbiRapper, Alessio2405 e Alex98 in piazza staremo lì, giocheremo, mangeremo un gelato perché già prevedo che farà un caldo bestiale tipo mi dice dai 33 gradi ai 20 gradi e sarà sereno molto probabilmente anche se in anticipo di una settimana mi dice già Facebook quanti gradi faranno quindi in caso portatemi un po' di soldi che andiamo a mangiare un gelato tutti insieme e se dovete portare fanarte e puttanate varie portatelo insieme a voi che noi saremo felici di prenderle con noi e portarcela a casa e metterle sul muro qua dietro spero di vedervi in tantissimi, mi raccomando venite perché sarà l'unica toppa che faremo in quella parte d'Italia poi ce ne sarà un'altra a Milano, al sud mi dispiace dovevo scendere per agosto a Roma ma appostici però e verrò al primo Romics di ottobre e poi ci sarà anche Genzi, Luca Comics, avrò il tempo di andarci e mi raccomando per i napolitani state sicuri che verrò al Comic Con, quello di aprile quindi incrociate le vostre dita ci vediamo con un prossimo video domani alle 12.30 o lunedì 30 dipende da come mi pare piace comunque 12.30 molto probabilmente e mi raccomando mettete like a questo video e commentate e iscrivetevi ed attenzialmente è tutto, ciao a tutti ciao a tutti